18.265 per la greda del Roma 7 18.517 per l'atleta della Rosetta Merate Leggermente avanti l'atleta della Polisportiva Bellusco Vediamo le conferme al finale 18.167 per Riccardo Bossi 18.542 per Gabriele Galli 7.542 per Gabriele Galli Andiamo! Andiamo dato tutto tutto Andiamo andiamo! Metagiro praticamente identico Vediamo il cronometro alla finale 18-0-46 per Elia Pasolo 18-153 per Davide Casoni abbiamo la falsa partenza di Andrea Menegaldo partendo questa volta regolare di questa quarta batteria praticamente identico nel metagiro vediamo il cronometro come verrà chiuso 17-802 per Matteo Bernabéi 18-0-7 forza Giacomo, forza leggermente avanti Giacomo Matto vediamo il finale si sarà confermato Tempi 17-6-6-1 per Giacomo Matto 17-9-3-9 per Davide Menegaldo in position set vediamo il tempo finale quindi 17-5-0-2 per l'atleta del Bellusco facciamo un bel applauso anche a Giacomo Bernabéi che comunque chiude la prestazione e chiudono così queste frasi regale